I social network sono un mezzo che ha modificato completamente il nostro modo di comunicare. Ambienti virtuali come quelli di Facebook e Twitter sono ormai diventati familiari per milioni di persone. Ma esistono delle potenzialità educative e formative in questi strumenti? Se lo sono chiesti la sede retina dell'Università di Siena, l'Ateneo Pisano e la Scuola Superiore Sant'Anna. Un progetto, finanziato dalla Regione Toscana, sta indagando proprio su questo campo. Nella sperimentazione verranno coinvolti sia studenti delle scuole superiori a retine, sia operatori sanitari dell'ASL 8. Per fare il punto sul progetto, avviato da alcuni mesi, il nuovo Dipartimento Universitario Retino di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale ha organizzato un convegno. Sì, di solito i social network sono associati a attività di passatempo, di divertimento. In realtà il progetto Sonna che noi stiamo realizzando vuole dimostrare che questi strumenti, o meglio l'uso di questi strumenti, può essere particolarmente utile anche per attività serie, diciamo noi. Cioè per apprendimenti in ambito scolastico, in ambito lavorativo, in particolare per quanto riguarda la scuola, la nostra sperimentazione avrà per oggetto temi legati alla cittadinanza, imparare la Costituzione attraverso i social network, soffermarsi o approfondire temi di bioetica appunto attraverso questo tipo di strumentazione, mentre in ambito lavorativo l'uso dei social media dovrebbe riguardare in particolare le conoscenze che maturano all'interno delle comunità professionali, dei gruppi professionali.